Dai 31 feriti, nessuno è in pericolo di vita. Due sono stati trasportati all'ospedale di Crema e tre a Cremona. Gli altri a Lodi, Mileniano, Codogno, Piacenza, Castel San Giovanni e all'Humanitas di Milano. Il più grave è un addetto alle polizie. Dai tre accolti dai sanitari di Cremona, uno è stato trasportato in ill'ambulanza con codice giallo di media gravità. Il nosocomio di Crema ha ricevuto due uomini sui 58 e 60 anni e una ragazza di 25 anni, già dimessi nel primo pomeriggio. È stato dedicato loro un sossegno psicologico, considerato il grande spavento causato dall'incidente di questa mattina, quindi sono stati riaccompagnati a casa, chi dai familiari, chi dal personale di Trenitalia o dall'ambulanza. A Cremona è arrivato in ill'ambulanza un giovane di 28 anni con contusioni e ferite. Il pronto soccorso, dove è stato tenuto in osservazione, la guarigione per i medici richiederà una settimana. Sono stati sette invece i feriti presi in carico dagli ospedali di Piacenza e di Castel San Giovanni, tutti uomini e con traumi molto lievi, come ha chiarito un comunicato. Dopo gli accertamenti radiologici, non è stato necessario né il ricovero né un'ulteriore permanenza in ospedale. Alcuni di loro si trovano in evidente stato di shock, per cui è stato messo a loro disposizione un servizio di supporto psicologico. Grazie. 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 Grazie.